Allora qui dal Teatro Bracco come potete vedere dal cartellone abbiamo quest'amico quest'amico ci conosciamo da tanto tempo Ciao a tutti sono Pasquale Palma e votatemi Allora Pasquale Palma tu stai qui nel cartellone e farai uno spettacolo quando? Allora farò uno spettacolo guarda qua dal 23 al 25 marzo 2018 e siamo qui molto fieri ed onorati di essere qui dal Teatro Bracco con uno spettacolo totalmente nuovo che si chiama Il Dottor Futuro ci tengo a dire che è una commedia teatrale perché spesso uno dice ma che cos'è lo spettacolo insieme di sketch no è una commedia teatrale totalmente nuova con sei attori una compagnia ci divertiamo quindi non potete mancare ci sarà proprio io non manco lei non manca tu non manca no no non manchiamo nessuno teatro Bracco, biglietti, controllore, biglietti il Dottor Futuro a marzo e poi tutti gli spettacoli del Bracco che ne è capato a me ne abbrì? no tutti tutti i spettacoli del Bracco evviva evviva del Bracco come potete vedere sono dei ragazzi è vero Gioia? se vuoi un teatro che non ti fa il pacco devi venire solo al Teatro Bracco bravissimo bravissimo non agire un modusano no infatti se l'è studiata tutta la notte vero? è vero quindi non potete mancare con questi bravissimi artisti con questo cartellone così ricco vi aspettiamo al Teatro Bracco ciao amici ciao venite voglio che state bene grazie Pasqua